Buona adesione alla campagna vaccinale in Brianza. I numeri sono più che significativi e molto importanti, dice Tiziana Meroni, responsabile della struttura vaccinazione di ASST. Dal 23 ottobre al 7 dicembre sono stati infatti 10.814 vaccini inoculati presso le case di comunità e i centri vaccinali afferenti all'azienda sociosanitaria diretta da Marco Trivelli. 3.841 vaccini anti-covid, 6.750 quelli anti-influenzali, 223 gli anti-pneumococco. Negli ultimi giorni tuttavia sta crescendo molto la domanda di anti-covid, tanto da saturare ad oggi del 100%. Le agende di prenotazione sino al 22 dicembre, aggiunge il medico specialista vaccinale di ASST. Le case di comunità dove si è vaccinato di più? Quella di Vimercate, in primo luogo, con quasi 1.800 vaccini somministrati, seguita da quella di Monza con 1.500, di Brugherio con 1.160 e di Giussano con 1.100. La campagna vaccinale naturalmente prosegue fino alla pausa natalizia e successivamente nel mese di gennaio, ma verosimilmente anche oltre. Sul tema è stata promossa un'importante iniziativa di sanità pubblica alla Casa di Comunità di Cesano Maderno, a favore dei cittadini che risiedono nel villaggio Snia. Presso la sede dell'associazione Diritti Insieme sono state inoculate in 5 ore ai cittadini dotati di tessera sanitaria quasi 90 dosi di vaccino, di cui una cinquantina anti-influenzali e quasi 40 anti-covid. Hanno aderito alla campagna anche 50 persone di origine straniera.